Scampoli d'inverno in Abruzzo, tra neve e pioggia, fiocchi bianchi all'Aquila, Vezzano, Sulmona e in diversi centri dell'interno piove sul resto della regione. Chissà che sentendo odore di primavera all'inverno non si è ritornato sui suoi passi e faccia la voce grossa, anche se per qualche giorno impiancando metà Abruzzo e facendo venire giù dal cielo e nel resto della regione la pioggia. Un risveglio bianco per l'Aquila, Vezzano, Sulmona e altri centri dell'interno anche del Pescarese, dove la giornata si prospetta con i fiocchi bianchi naturalmente, mentre nel resto della regione la pioggia regna sovrana. L'esperto meteo Giovanni De Palma con l'Aquila Caput Frigoris delinea la situazione di oggi in Abruzzo, nevica nella Marsica, nell'Aquilano, anche sull'Alto Sangro e sulle zone montuose, con un progressivo calo della quota neve. Nelle prossime ore inoltre è previsto un graduale rinforzo dei venti dei quadranti nord orientali lungo la fascia costiera e colinare con il mare che farà la voce grossa. Il maltempo continuerà a manifestarsi per gran parte della giornata e nelle prime ore di domani, mercoledì, con un graduale miglioramento atteso soprattutto dalla seconda metà della giornata. Le temperature sono insensibile diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Colonina di Mercurio sotto lo zero a campo Imperatore, Prati di Tivo, Maielletta, Rifugio Pomiglio. Nell'Aquilano diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rami pericolanti a causa del peso della neve. A pochi chilometri da Pescara nevischio a penne, bussi e caramanico. Problemi inoltre per la viabilità sulla A24 e la A25 anche a causa del vento. Interviene nel frattempo il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il quale ha puntualizzato che nessuna allerta lasciava presagire questa precipitazione. Un quarto d'ora dall'inizio della nevicata prosegue, sono usciti nove mezzi del comune e 11 privati. Purtroppo la concomitanza con gli orari di punta del traffico mattutino ha creato molti problemi e disagio alla popolazione. L'Enel ci ha comunicato che il maltempo ha causato alcuni guassi, conclude il primo cittadino. Interviene ancora l'esperto meteo Giovanni De Palma. Precipitazioni diffusi o in generale calo delle temperature stanno favorendo un ulteriore abbassamento della quota neve intorno a 400-500 metri, specie sul settore occidentale della regione e sulle zone pede e montane che si affacciano sul versante adriatico. Attese nevicate di moderata intensità nelle prossime ore nell'Aquilano, Valle Peligna e sulle zone pede e montane del Terramano, Pescarese e Chietino, piogge diffuse e resistenti sulle restanti zone.